Però adesso abbiamo un collegamento con un nostro ospite che da alcune settimane ci fa compagnia, lui dalla settimana scorsa ci fa compagnia, da maluento si collega il dottore Meloni, il dottore. Buonasera, buonasera a lei. Buonasera dottore, scusi se la signorina ha sbagliato. Ma che ti comprendi, non ti preoccupare, buonasera a lei, a tutta questa gente che in me che si cazza del domo e anche a quei pochi sardi che tenti sul traballo, se non ti permette di andare a traballare, poi spendi tutto sul dinario in questo pagamento, sa che questo è da questo Stato e non tenti manco sul dinario di andare a si buffare una massa di bio, subito questa culla della cultura sarda, capito? Bravo dottore, però cerchi di essere un po' più chiaro perché non si capisce molto eh. Difatti, non si comprende un'orda, poi me che ne hai, che mi ascoltano, me che ne hai, appunto, che in questa gente sarda, subito, è stata la culla della nostra identità. Certo. Poi tu pensi a tutti con questa gente che è in questa regione, che è in questa stessa, in testa tutti schiazzata, sbagliata, che mangiamo a noi. Usiamo un linguaggio da politico però eh. Un linguaggio da politico, un linguaggio, ecco qui, e infatti vi manderò del vino mio prodotto da me affinché anche voi non ci dà capestisi i commenti con questa gente, comprendi? Ah, questo è il suo vino? Questo è il vino mio scherzato da me, binennao da me, votato da me e fatto da me, ma te sei, scherzendo. Complimenti, infatti la voglio ringraziare, cioè hanno portato una cassa di vino. Eh, ve l'ho mandato, ve l'ho, difatti il mio vino. Eh, infatti l'abbiamo servito alle tappi, come me l'ha chiamato Maluentu? Difatti il mio vino è Deterralba, Deterralba, bella. Lei deve capire che prima a Capra ci vuole anche il romanzo, comprendi? Eh, ma il romanzo, ha già molto. De me, la questione di questa storia, lei la storia la deve capire, in base a questa storia c'è questa Sardegna. Certo. Quando venivano questi legionari romani a quadro, o a beh, che Dio si voglia, Beh, niente, e spesa un mio, su quanto veramente questo, su Marisi, di questa Sardegna. Dica tanto, sono niente per un menso bene. Ho capito. Questo su buffante, il romanzo su buffante, si dromianta, e i miei pesanti abusavano di me. Vabbè, non dica queste cose, ma quella è storia che si inventa lei, Dottore, guarda. E si è ben ideati. Ma che li fa venire? Abusavano di loro, e poi, etta succediata, succediata, che a gusto sul romanzo si indandante trodia trodia. Allora, ma no, ma che, Dottore, non dica queste cose, dai. E da qui, e da qui ha preso il nome, vino de' maluente, come è, questa sindandante trodia trodia. Ma che, ma dai, queste cose le pe... Eh, tanti ne pagano, ascolti. E io pensavo che fosse un vino leggendario, un nome leggendario, invece è... Ma te sei niente, si figuri che a volte si c'è bastante, può vincere se è squadro. Vabbè, adesso parliamo di vino, dai, Dottore. E lei mi insegna... Ma che te le insegno? Mi insegna che la storia si ripete, si ripete. E noi apolli, noi apolli, chi non arriva, ti invitano questa tesi, questi che si andano mandati dal popolo sovrano, che ha avuto il parlamentare. Sì. Sì. Vabbè, ma che le sono cose che... Comandante Isoso. Vabbè. Poeta, questa gente, questa gente, non ha allo, fanno ciputa e prendono il venuto. Vabbè, è stato chiaro. Vabbè, Dottore, sì. Mi dica, non vorrei appunto che qualcuno di questi parlamentari italiani venga da un bimbo, fai bimbo a tradimento. Perché è tradimento, scusi? Poeta, questi parlamentari sardi non cinti manco e tornare a Sardegna, andate in giro tre mesi di prima delle elezioni, si agiregano qua a Sagra, a Sardegna, in Bid, e poi torrenta a Roma, ma gli avvolgono i pasticcini che di chi non si streccano. Ti si streccano, scemo. Vabbè, perché diceva che vanno... Ecco qua. Per chiude, diceva che se vanno da voi parlamentari a bere del vino... Considerato che la storia si ripete nel corso degli anni, po' di tessi che vengono in paese, bevono il nostro vino e gustota su un maluento di un vazzantissimo, su coscia, coscia. Comprete. Va bene, Dottore. Io la saluto. Arrivederci a lei e a Franculo Scontinentale. Grazie, Dottore Meloni. Eh, eh, ciao. Noi torniamo a due minuti di buonità. Felicitamente torrenti, Dottore. Grazie, Dottore. Grazie, Dottore.